Musica Molly dai vieni a fare il bagno si sta benissimo qui guarda c'è tutta la piscina per noi e poi cosa vuoi che ci sarà mai nel bosco non c'è niente siamo solo noi Ciao ragazzi siete pronti per un nuovo fantastico video in piscina Rebi te l'ho detto oggi non ho voglia di fare il bagno ciao ragazzi come state speriamo tutto bene Oggi io dovevo fare il bagno però non mi va perché sto sentendo dei rumori veramente strani provenienti dal bosco e non capisco che cosa stia succedendo Ragazzi qualcuno vuole convincere Molly a venire in piscina ormai siamo a fine estate e poi diventerà il tempo brutto bisognerà tornare a scuola e non si può più stare in piscina Invece in piscina si sta così bene ah che bello Chi di voi è ancora in vacanza ragazzi scrivetelo qua sotto nei commentini e qualcuno convinca Molly Molly dai vieni a fare il bagno Continua a fissare il bosco pensa che ci sia qualcosa là dietro ma io non sto sentendo dei rumori Ok aspetta forse dei rumori li sento però è normale perché nel bosco magari ci sono delle cavallette oppure non lo so passano degli animali Ma dai e a noi che ce ne frega stiamo qui in piscina e ci rilassiamo Shhh Rabbi hai sentito? Ho risentito quel verso ti giuro che sto sentendo qualcosa adesso voglio andare a vedere tu rimani qui o vieni con me? Ok no adesso l'ho sentito anch'io questo rumore e mi sa che verrò con te Aspettami non mi lasciare qui da sola Ok allora dobbiamo dividerci uno va da quella parte e uno nel bosco No 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 io nel bosco non ci vado da sola quindi adesso mi vesto tu mi aspetti e andiamo insieme Allora Reby io sto sentendo dei rumori veramente strani provenire da lassù Secondo te c'è qualcuno che ci sta guardando? Senti Molly hai disturbato il mio bagnetto se là non c'è niente e questo è solo uno dei tuoi scherzi sappi che mi arrabbierò molto questa volta e io e Fanny non te la faremo passare liscia hai capito? Ma non è uno scherzo è la verità Siamo sicuri ragazzi è uno scherzo ditemelo qua sotto nei commentini se è uno scherzo perché Molly ultimamente me ne sta facendo parecchi e ho paura sia un altro scherzo dei suoi Allora secondo me c'è qualcosa che non va perché io sto continuando a sentire questi strani rumori Provenire da qua un po' da sotto e mi sono stancato voglio capire che cosa c'è di strano in questa piscina e in questo bosco tu non sei curiosa? Ok allora facciamo una cosa io direi di cominciare da là guardiamo se c'è qualcosa là poi andiamo di sotto poi andiamo di là e poi alla fine se non c'è niente torniamo in piscina per il nostro fantastico bagno promesso? Promesso però secondo me questo bosco è molto strano potrebbe essere un bosco magico un bosco spettrale quindi farei meglio a non venire Fiffona Rebi Io non sono Fiffona ho solo un po' paura di andare nel bosco da sola e comunque mi sono vestita adesso mi bagnerò tutta perché avevo tutto il costume bagnato quindi facciamo veloce perché devo rientrare subito in piscina Ok dai andiamo insieme sentiamo la mano che ho paura eh È uno scherzo? No Ok Ok molly ho cercato qua non c'è niente qui in mezzo cioè guarda è solo è solo natura Hai provato anche là? Hai provato anche lì? Ho provato anche lì non c'è Oh mamma Cosa? Cosa? Ok molly forse avevi ragione non ti spaventare ok ma c'è qualcosa proprio dietro di te Cosa c'è dietro di me? Ok c'è una cosa un po' blu dietro di te esatto quella lì Che cavolo è una pellizza? Non lo so però sembra un animaletto Aspetta piano piano te l'avevo detto che c'era qualcosa che non andava perché è una pellizza blu Che cos'è? Va a vedere Che cos'è? Va a vedere Cos'è? Oh 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 Ma che cavolo è? Ma che cos'è? Ma? Oh Ma che cosa? È Aghi wagi? È Aghi wagi? Aghi wagi nel bosco? Ma questo è un mini Aghi wagi è simile a quello che abbiamo anche noi È vero noi ce l'abbiamo un Aghi wagi così Ma cosa si faceva un Aghi wagi qui nel bosco? Oh mamma questa cosa è molto inquietante E io sto continuando a sentire anche questi rumori tu li senti? Sì però secondo me vengono da là Dobbiamo rimetterlo a posto oppure tenerlo? No portiamolo con noi Lo portiamo con noi ma sei pazza? Ma non sarà cattivo l'abbiamo trovato alla fine è un pupazzetto fammi vedere Aspetta aspetta Ok allora ragazzi forse Molly aveva ragione abbiamo già trovato un piccolo Aghi wagi sicuramente ci sarà qualcos'altro Andiamo Adesso andiamo là sotto vieni Molly Là dobbiamo andare là ma sei pazza? Eh ho capito ma i rumori venivano da qua dove vuoi andare? Ma Rebby ma guarda che bosco che vallata che c'è tu vuoi andare proprio qua sotto? Ma beh però guarda che bel panorama che c'è Sì è bello ma se ci fosse qualcuno se c'è qualcuno che ci sta ascoltando questo qualcuno deve lasciarci in pazza Molly ho sentito un rumore da là Un rumore là? Qualcosa là sotto Ok aspetta vado io a controllare Ok vai a controllare ma fai veloce perché dobbiamo finire tutto questo prima che faccia buio perché altrimenti sarà molto pauroso Vieni vieni Rebby ok c'è nessuno vedi non c'è nessuno Rebby Ma guarda là c'è qualcosa Che cosa? Guarda vedo qualcosa Là? Sì là Hai visto? Sembra la casa di qualcuno ma che cosa si fa qua? Dai andiamo No io non voglio andare là Rebby non possiamo andare là scusami Senti ormai mi hai fatto venire fino a qua giù adesso andiamo fino in fondo noi non abbiamo paura di niente Ma ho capito ma quella sarà la casa di qualcun altro Dalini si è un'altra proprietà sai com'è? Ok ma ho visto qualcosa di rosso voglio andare a vedere che cos'è Qualcosa di rosso? Sì c'è qualcosa di rosso laggiù guarda Ok andiamo facciamo piano Ok facciamo piano attenzione dove metti i piedi Molly mi raccomando Ok ma io ho paura dobbiamo proprio andare Sì Oh mio Dio Rebby ma che cavolo è sta cosa? Un'altra cosa blu Molly ma cosa stai dicendo? Quelle sono prugne però in effetti abbiamo trovato solo cose blu qua Ma guarda cosa ce l'ha un trattore ed è rosso C'è qualcosa di blu c'è anche un telo blu Ci sono troppe cose blu eh Esatto c'era anche i waggi c'era la prugna c'erano le more Adesso c'è il trattore oh mamma Oh cavolo è che è sta roba qua Rebby io ho paura qua sembra tutto abbandonato dobbiamo proprio stare qua Guarda ci sono delle casette Delle casette? Sì guarda è una casetta questa Salve c'è nessuno Rebby andiamo via per favore Aspetto senti tu un rumore Cosa? È lo stesso rumore di prima Ok io direi di andarsene No Molly guarda c'è qualcosa la andiamo a vedere Ma perché dobbiamo andare là? Senti è stata tua l'idea e adesso dobbiamo finire Mia Rebby è meglio non stare qua perché sicuramente arriverà qualcuno Ma c'è un trattore Ma c'è un trattore C'è un trattore lì C'è un trattore Proviamo a guidarlo Rebby Proviamo a guidare il trattore vai Cosa? Cosa c'è? Molly perché non parli più? Perché non parli più Molly? Rebby guarda che cosa ho trovato Oh non ci credo Ma che cavolo è? È un pop it gigante di Huggy Wuggy Non ci credo al pop it gigante di Huggy Wuggy Ma questo è super raro Cioè io non l'ho mai visto un pop it così È bellissimo ma che cosa si fa qui? Ma chi ne avrà messo il pop it di Huggy Wuggy qua? Sto sentendo ancora quei rumori È meglio andarsene via Rebby Ok però il pop it lo portiamo con noi direi Iniziamo a correre forza Vai 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 Via via Rebby Molly ma se qua c'è la casa di Huggy Wuggy Alla fine ci sono tutte le sue cose È tutto blu intorno È vero Perché ci sono un sacco di cose blu Poi abbiamo trovato Huggy Wuggy piccolino Abbiamo trovato il pop it super gigante di Huggy Wuggy Che non esiste da nessuna parte Non lo so non lo so Ragazzi Siamo finiti a casa di Huggy Wuggy Secondo voi potrebbe essere la casa di Huggy Wuggy Io non lo so Guardate È un pop it gigante di Huggy Wuggy Io non l'avevo mai visto Che cosa si faceva qua Ok allora Prima cosa io direi di scappare subito da questo posto Seconda cosa Era molto meglio rimanere in piscina Te l'avevo detto Eh lo so Allora adesso noi ce ne torniamo in piscina Facciamo finta che non sia mai successo L'ho sentito dai rumori Nulla ce ne andiamo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.